più cucinare diventa semplice più viene voglia di cucinare questa non è una novità oggi cucinare i tuoi primi secondi e contorni è più facile grazie a rosette findus con vegetali selezionati e preparati come vorresti tu da sciogliere in pochi minuti con rosette findus la buona cucina ti è più vicina e questa sì che è una novità ai funghi alle melanzane al soffritto al pomodoro ai carciofi